carosi tagliati che succedo io all'Etna oggi una bedda fumata dal cratere centrale ovvero da napolaccia, vedete come arrivavo, infatti io di ca' carosi che ne vanno da direttamente oh ma dagli anni stai registrando diciamo ovviamente a quest'ora ma c'è incredibile guardate sono le 16 e 51 tutti i pomeriggio, potete dire quasi alle 5, alle 5 del pomeriggio, guardate non ci potete credere è scioccante la cosa veramente, invece di credere su destra è tutto un milione ma guardate che sta succedendo guardate perché dovreste guardarlo perché è una cosa strabiliante la nostra, cioè incredibile, guardate ovviamente chissà che l'Etna oggi in questi giorni, cioè sta prendendo, guardate credere su destra cioè incredibile, guardate, guardate quella piccola fumata, eh da lì, guardate, cioè incredibile sono piccole dubbette da credere su destra, invece non per credere su destra, ma guardate incredibile, apri un'ora che c'è sta cosa, vuoi crederti su destra, già a st'ora, c'è ma che sono queste cose, cioè non si prendendo i picchi, infatti avete le camera, vabbè, però sto io venendo, non so, però c'è il giorno ragazzi, eh eh, picchi sti, cioè guardate le le camera, madonna, ragazzi, io vi saluto, buon pomeriggio e ciao!